Avete sempre sognato di partecipare a un rally, ma non ne avete mai avuto l'occasione? Beh, io ho una soluzione virtuale e adrenalinica per voi. Ve ne parlo tra poco qui su Tech Princess. Se vi dico Colin McRee Rally, vi viene in mente qualcosa? Si tratta di una famosissima serie di videogiochi nata nel 1998 ed incentrata proprio sul rally. Da qualche tempo però, i videogiochi di questo franchise non portano più il nome del famoso pilota. Ecco perché l'ultimo gioco della serie si chiama Dirt 4. Per giocare non avete bisogno di essere esperti di videogiochi o appassionati di rally. Una volta avviato, Dirt 4 vi chiederà di scegliere tra due modalità differenti, giocatore o simulazione. I contenuti del gioco sono ovviamente gli stessi, ma cambia lo stile di guida. La modalità giocatore è infatti pensata per tutti coloro che sono alle prime armi e per coloro che preferiscono qualcosa di divertente, ma non eccessivamente impegnativo. I veri amanti del rally, invece, opteranno sicuramente per simulazione. In questo caso però preparatevi a gare complesse e ad auto decisamente più difficili da governare. Una volta selezionato lo stile è il momento di capire qual è il vostro livello. Alla guida siete dei veri maestri o quasi dei pericoli pubblici? Per scoprirlo dovrete affrontare una piccola gara. Una volta terminata sarà proprio il gioco a suggerirvi il livello di difficoltà più idoneo a voi. A questo punto siete pronti ad accendere i motori. Dovrete solo decidere cosa fare. Dirt 4 infatti include una classica modalità carriera, le sfide online e le gare settimanali. Non manca poi una nuova funzione chiamata Your Stage, ossia la tua tappa. Gli sviluppatori del gioco hanno infatti deciso di creare un titolo che fosse quasi infinito e per farlo hanno inserito i tracciati generati proceduralmente. Non fatevi però spaventare da questa parola, alla pratica significa solo che ogni percorso sarà diverso dai precedenti, creato al momento dal computer o dalla console di gioco. In questo modo avrete che fare con qualcosa di sempre nuovo e imprevedibile. Dirt 4 include anche una parte un po' più gestionale. Le prime gare infatti vi permetteranno di guadagnare moneta virtuale, da spendere in un concessionario altrettanto virtuale. Una volta acquistato il vostro primo bolide sarete pronti per accedere ad un menu chiamato La Mia Squadra. Qui potrete dare un nome al vostro team, cambiare i colori delle auto, stringere contratti con gli sponsor e assumere nuovi ingegneri. Insomma, se il rally è la vostra passione non potete farvi scappare Dirt 4. Il gioco è disponibile per PC, Xbox One e Playstation 4. Direi che per oggi è tutto, io vado a scatenare tutta la potenza delle mie auto virtuali. Voi nel frattempo ricordatevi di visitare il nostro sito www.techprincess.it per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità tecnologiche e non. Ciao!